Sì, aggirarà. Mi dispiace disturbarti. Continuiamo dopo. Perdonami le mie scortesie, ti prego. Non odi più tutti i romani? Non proprio tutti. Delle province. Non avevo intenzione di disturbarti. Continueremo dopo. Scusami per la mia scortesia ieri sera. Allora non odi più tutti i romani? No, non tutti i romani. No, non ti prego. Grazie a tutti.